Oggi due grandi eventi organizzati dal CRAM daranno anche visibilità alla città di Chieti in tutto il resto del mondo. Due eventi, il primo questa mattina con il turismo delle radici, un argomento importantissimo del quale si parla tantissimo oggi, basti pensare che ci sono oltre 1.300.000 abruzzesi che vivono fuori dall'Abruzzo, abruzzesi che vivono nel mondo, che sono un bacino dal quale attingere a livello turistico ed esperienziale nella nostra regione. Un altro evento altrettanto importante è il racconto che proprio gli abruzzesi che vivono nel resto del mondo faranno oggi pomeriggio alle 18, raccontando la loro esperienza di emigrante, di prima o di terza generazione, la loro vita in un altro paese e il loro cuore che resta però abruzzese. Oggi Chieti è il centro del mondo.